allora sono qua in same solid e voglio aggiungere un come si chiama questo qua coordinate system un sistema di coordinate alternativo allora a questo punto lo voglio mettere qua in mezzo ok allora a questo punto io quasi quasi andiamo a vedere come si fa creare ok lui mi dà 0 0 0 ok io quasi quasi a questo punto sapendo posso anche andare qui ti comparte ok e vado a prendere questo vediamo se riesco qui e poi me lo metto come il solito posto metto qua 0 ok vediamo e dunque a posto perfetto perché posso cambiare ave qui potrei vediamo se si può cambiare nome no vabbè comunque faccio ok a questo punto mi sono creato il mio sistema dico secondo sistemi coordinate allora dopo si poteva cambiare z y x così via ma per adesso me interessava lasciarlo così vabbè ci vediamo la prossima rivederci ciao 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 ciao